mamma mia quanto mi brucia avere ragione io su 7 anni di youtube non ho avuto mai ragione mai a parte poche volte e una di quelle poche volte è nel video di oggi a proposito, grazie per chi non l'ha visto e meno male che io vi ho pure ringraziato sarà per le feed sarà per un argomento poco appetibile però io nel video l'avevo detto che la fiorentina sarebbe venuta con un'altra mentalità e infatti abbiamo visto una fiorentina cazzimmosa una fiorentina ordinata una fiorentina con un gioco e una fiorentina con personalità soffermiamoci sull'ultima parola personalità una squadra che aveva calma una squadra che era organizzata una squadra che non si è minimamente disunita una fiorentina che ha subito due gol su due cazzate loro la prima su venuti che ha fatto un retro passaggio incredibile Dragoschi si è fatto espellere e secondo e secondo gol tutti hanno lisciato la palla dentro l'area e Petagna l'ha segnata va bene io stasera non sono incazzato per risultato ma amore Dio cioè nel calcio si può vincere come si può perdere a me fanno incazzare due cose la prima la goleata perdere 5 a 2 in casa è vergognoso è umiliante per una squadra che fino a un paio di mesi fa lottava per lo scudetto per alcuni giornalisti e per alcuni tifosi io mi sono sempre dissociato ok e tu pierdi 5 a 2 con due goli regalati e la seconda che proprio non se ne scende a tengah ca a tengah ca non se ne scende è l'atteggiamento di merda un atteggiamento che una grande squadra non se lo può minimamente permettere soprattutto in casa lo sapete a me pure la terza cosa cosa mi fa incazzare mi fa incazzare proprio di brutto e mi collega a un commento di oggi nel video di oggi di Alfredo mi sembra che ha detto ma cosa ce ne facciamo nella Coppa Italia è meglio se usciamo prima puu ma vaffanculo noi già siamo una squadra o meglio si una squadra una rosa una società che non vince mai un cazzo è tu che vuoi uscire la Coppa Italia tu 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 e che lato avrangate sceme che voleva sci si perché siete una avrangate sceme non siete rifusano Napoli siete una avrangate sceme è la prima competizione affanculo siamo contenti siete contenti Coppa Italia via ma aspettiamo febbraio per l'Europa League e poi la Champions League se vi azzardate a non arrivare in Champions io faccio tabula rasa non me le fotte un cazzo a dia delle assenze del Covid della Coppa da me la fotte me la fotte faccio tabula rasa se non doveste andare in Champions eh ma what eh eh un atteggiamento di merda un Christian su Twitch mi dice ma sai come lo vedo in Napoli una squadra che non non si è voluta impegnare io in cuore io nella mia testa mi sono detto Maros per almeno perché se è veramente quello che dice Christian veramente Samo Guaya veramente non siamo una grande squadra veramente non siamo una grande squadra eppure è la stessa formazione che ha giocato con la Juve e con la Sambadoria forse questo ha influito la stanchezza ma neanche ma neanche atteggiamento di merda ma che è sto atteggiando ma dove cazzo volete andare con questo atteggiamento sto di chitaka chitoki cioè nel primo tempo ha toccato più pallone o spina che Mertens e Mertens trequartista si doveva far vedere doveva dare le indicazioni come un vigeno urbano cioè in questa partita quelli che mi hanno deluso parecchio parecchio sono Mertens e Elmas Mertens che non l'ho visto da capitano uno che che incita uno che dà le indicazioni uno che fa così uno che fa la gioca ha fatto un euro goal ok ma un euro goal un bel goal non cancella una prestazione minima perché da Mertens un giocatore da queste qualità io mi aspetto sempre di più Elmas è egoista sbaglia tutto è sempre fallo indietro non ha puntato non ha puntato venuti venuti non Marcello o un altro tessino top cafu venuti venuti non ha drippato venuti vengono una volta venuti poi gli unici positivi per me sono di Lorenzo lo bot che col cazzo che perde il pallone e e cosa come si chiama ma proprio striminzito ma proprio risicato petagna che a me la segna è peggiore non ha giocato non ha giocato ma quindi è niente che mi dite ma difendi sempre petagna no però almeno ci ha regalato ulteriore speranza speranza vana che ci hanno rifilato tre poppette ma dove cazzo ah altri peggiori Fabio Ruiz e Lozano Fabio Ruiz ha fatto qualche palleggio ma ha fatto due falli stupidi cioè noi noi non meritavamo minimamente di andare supplementari la Fiorentina meritava meritava di vincere già nei primi 90 minuti questo mi fa incazzare noi dobbiamo ringraziare Eroldi che ha stoppato l'occasione del 3 a 1 di Econè che in quell'occasione stavano in 2 contro 1 3 contro 1 Fabio Ruiz ha fatto fallo tattico doppio giallo espulsione ci sta l'ammunizione per l'ostruzione ci sta ma per me quella è regola del vantaggio solare per me ci poteva stare anche un rosso per Duncan perché lì entra la popola a forbice ma ripeto atteggiamento di me complimenti alla Fiorentina la Fiorentina ha meritato è venuta con personalità molti lo criticano l'unica sbavatura è sul gol si è mosso male in ritardo però nel complesso non ha fatto una bruttissima partita personalmente poi no Spalletti mi deve mi deve chiarire una cosa una cosa il cambio Ospina Meret qualcuno ha detto in chat in live è per far giocare tutti e due ma questo fatto di far giocare tutti e due si fa in amichevole ma non in competizioni ufficiali c'è Ospina ha fatto un miracolo su Vlovic ha tenuto bene la porta e tu lo sostituisci con un portiere da palazzo perché voglio Meret un portiere da palazzo in questo momento per me per me Meret non lo reputo più un giocatore da Napoli basta non lo difendo più basta non è possibile che ogni volta che gioca subisce gol non è possibile il 2 a 1 il 2 a 1 è vergognoso è vergognoso punizione palla ribattuta tu rimani dietro dietro alla barriera ma si strunzo vera tu ti butti 3 ore ma si strunzo vera come cazzo devo giudicare la partita ma gli umiliati è una cosa che non sopporto vedere la maschera del cuore perdere 5 a 2 perdere perdere 5 a 2 non lo sopporto l'atteggiamento di merda questo atteggiamento non andiamo da nessuna parte e lo ripeto se perdiamo il posto champions io faccio tabula rasa ma lunedì abbiamo abbiamo la Bologna non voi partite fatte figure e merda e io veramente scasso qualcosa mamma mia vergognosi tutti a parte lo botca e a parte lo botca di Lorenzo tutto il resto vergognosi tutti pure si hanno segnato Mertens e Pedani vergognosi lo zano la top club ma ciro poi ci vediamo domani con Paggellone ti vado a cena poi c'è Proclap e poi fa una bella sana run voglio vedere spalletti che cazzo dice dopo voglio vedere come cazzo si giustifica il cambio di Ospina Meret e gli altri cambi che li poteva gestire leggermente meglio per me vergognosi di Ospina